Il gioiello è la cossantiera che ha fatto Becuzzi, Becuzzi ha vari aspetti qui molto belli, cioè che sta donando a questa comunità, c'era particolare, logico, è la statua della Madonna della Nieve, ecco che ha fatto lui, le cossette che sono già attivistiche della nostra zona. Bene, siamo qui in Uniti stamattina proprio per festeggiare i nostri 70 anni, tutti quanti dicono che quando diciamo che stiamo festeggiando i nostri 70 anni ci partano e dicono ma come? No, 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 no. Piano, piano. Sapendo bene quali giudamenti avevano prestato freddo, il suo popolo infatti è in attesa della salvezza dei giusti, della rovina degli indici, di fatti come i cristi di avversario così glorificati tutti. Romandoci a te, i figli santi di giusti, esultati giusti del Signore, per gli uomini e reti che bella la donna. Beata la nazione che è il Signore come Dio, il popolo, che egli ha scelto con le sue dignità. Beato il popolo e scelto dal Signore. Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo tene, su chi spena il suo amore, è liberato dalla morte e un trillo di tempo di famiglia. Beato il popolo e scelto dal Signore. L'anima nostra a te, il Signore, egli è il nostro aiuto e il nostro spunto, su di noi sia il tuo amore. Signore, scelto dal te il nostro amore. Beato il popolo. Obbedito a te il bel uomo che doveva ricevere in eredità e partì senza sapere dove andava. Per fede, egli soggiornò nella terra fornessa come in un mare non straniera, abitando sotto le fede, come anche Isacco e Giacobbe, coerei della medesima promessa. Egli aspettava di diventare madre, perché ritene degno di fede colui che glielo aveva promesso. Per questo, da un uomo solo e inoltre già segnato da noi, mani videro e li salutarono da lontano, dichiarando di essere stranieri e fedeli sulla terra. Chi parla così mostra di essere alla ricerca di una patria. Se avessero pensato a quella da cui erano usciti, avrebbero avuto la possibilità di ritornarli. Ora invece essi aspirano a una patria migliore, cioè la quella celeste. Per questo Dio non si vergogna di essere chiamato loro Dio. Ha preparato infatti da loro una città. Per fede avrà messo alla prova offri Isacco, e proprio lui, che aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unigenito figlio, del quale era stato letto. Mediante Isacco avrà in una tua discendenza. Egli penserà infatti che Dio è capace di fare loro già e anche dai morti. Per questo gloriebbe anche come singolo. Parola di Dio. Parola del Signore. Adesso ho subito il cammino senza sapere dove doveva andare, perché il Signore gli aveva chiesto di uscire dalla terra con tutti i suoi amici, con la moglie, per amare. E poi dove, nella verità, nell'amore, una persona umana può sempre parare, può sempre immagliare. Quindi c'è sempre bisogno che attraverso la propria persona, attraverso la propria parola, dimostri veramente di far compagliare i sentimenti. E allora, quando si dice, io mi figlio di te, per lo dire, io non so cosa stai pensando di me. Io ti accetto come sei, tu mi dobbia accettare ugualmente come sono. Io so che questo è bene, ecco, di portare insieme quest'alento nel corso della vita. Significa ricordarsi che l'uno per l'altro è un mistero, che si scopre giorno per giorno. Non solo fino a 70 anni, ma anche fino a 90, fino a 100, sempre, ci si deve scoprire sempre l'uomo. Non si stanno inserire in un posto, in una comunità, sono fuori, come dei pesci con l'acqua. Non stanno bene, occorre inserirsi, sentire che tutti siamo partiti. Ma questo è venuto a portare a Gesù. Poi il Vangelo ci dice anche che noi dobbiamo avere un'ambiente, dire il prevedì di nuovo, che è uno che cammina, sa di essere in questo mondo, ma orientato verso la patria futura. Questo non dobbiamo mai indicare. Altrimenti, rispito se uno si attacca troppo alle cose di questo mondo, è facile e uscire. È facile perché si cerchi di correre, di correre dietro le cose materiali. E se la... ...della tua Chiesa, preghiamo. Dio, prof, che Dio, di bene, la scorsa, da Gesù. Suscita politici con un forte senso del bene comune. Preghiamo. Dio, prof, che Dio, di bene, la scorsa, da Gesù. Fa sorgere nuovi educatori alla fede per le giovani generazioni. Preghiamo. Dio, prof, che Dio, di bene, la scorsa, da Gesù. Chiama giovani generosi alla promessa. Preghiamo. Dio, prof, che Dio, di bene, la scorsa, da Gesù. Prendici, vigilante della sorella. Lo tiene ai suoi biscerchi che disse, prendeteli e mangiateli tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio a voi. Daasanone delle cose, la scorsa, da Gesù. Daasanone delle cose, la scorsa, da Gesù. Daasanone delle cose, la scorsa, da Gesù. Dio, prof, che Dio, per le giovani, la scorsa, da Gesù. Sì. E feel the joy you make Your voice is warm and tender A love that I could not forsake Cause I'm your lady And you are my man Whenever you reach for me I'll do all that I can Lost is how I'm feeling Lying in your arms When the world that says too much to take That I'll end when I'm with you Even though there may be time It seems I'm far away Never wonder where I am Cause I am always By your side Cause I'm your lady I'm bleeding And you are my man Whenever you reach for me I'll do all that I can We're ready for something Somewhere I've never been Sometimes I am trying to But I'm ready to learn For the power of love The sound of your heart beating To make it clear inside me To make it clear inside me The feeling that I can't go on Is light years away Cause I'm your lady Cause I'm your lady Cause I'm your lady And you are my man And you are my man Whenever you reach for me I'm gonna do all that I can I'm gonna do all that I can We're heading for something Somewhere I've never been Sometimes I am fighting But I'm ready to learn For the power of love The power of love The power of love The power of love Sometimes I am fighting But I'm ready to learn But I'm ready to learn For the power of love 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 Cause I'm your lady Cause I'm your lady And you are my man When you are my man Whenever you reach for me I'll do all that I can Whenever you reach for me This is how I feel Sì 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti